essere positivi non significa che va tutto bene che quando le cose non vanno occorrendo essere positivi significa credere che anche se oggi non siamo dovremmo essere un domani possiamo arrivarci significa avere fede che le cose possono andare meglio significa credere che sia possibile migliorare questa situazione perché solamente crede che sia possibile poi ci permetterà di iniziare ma c'è un concetto fondamentale se siamo ciò che mangiamo la nostra vita ciò che leggiamo ascoltiamo e vediamo in pratica ciò che viviamo questo perché l'ambiente che ci circonda ci influenza influenza le nostre credenze la nostra attitudine e i nostri stati d'animo se il tuo peggio nemico lasciasse il zucchero del tuo caffè vorresti un caffè più dolce ma se il tuo miglior amico ci lasciasse del veleno moriresti la vita è zucchero e veleno quindi controlla sempre il tuo caffè indipendentemente da chi si avvicina perché allo stesso modo l'influenza che riceviamo ci incondizionano indipendentemente dalla persona con la quale interaggiamo quindi il primo passo per una vita migliore è inutile alla nostra mente di storie di libri di video che ci stimino che ci motivino e che ci ispirino quindi di influenze positive può aumentare la qualità della tua vita e dei libri che leggi e delle persone che frequenti se vuoi cambiare la tua vita devi cambiare tu se vuoi migliorare la tua vita devi migliorare tu allena la mente e allena il corpo allena la tua mente a rimanere positiva cercare di vedere la luce in fondo al tunnel a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anziché quello mezzo vuoto c'è un altro punto fondamentale che è possibile cambiare quel l'energia pensa in grande comincia in piccolo per cambiare i più grandi problemi della tua vita di devi iniziare cambiando quelli più piccoli inizia mangiando bene un passo inizia a studiare senza telefono per un'ora inizia a non bere per quella sera inizia a non spendere per quelle cose che non ti servono inizia a passare un'ora con le persone che ami inizia in piccolo e prendi lo slancio vedrai che più piccole azioni completi e più realizzi l'idea che è possibile cambiare questo è fondamentale però bisogna stare attivi quindi quello che pensi è quello che sei se ci mettiamo soli la nostra mente cd così come se pensiamo che la nostra vita sia un disastro la nostra mente ci mette in risalto tutto ciò che lo sta andando bene quindi dobbiamo stare attenti a quelli in cui crediamo so che ci sono momenti in cui sembra tutto nero in cui non troviamo nemmeno un elemento positivo ma figli di me ci sono cose belle l'estate semplicemente trascurando non ti senti felice non ti senti energico vorresti gridare piangere per la rabbia per la frustrazione ma fidati che andrà tutto bene dipende da te cambia prospettiva cambia atteggiamento comincia a credere che un domani tutto questo sarà finito sarà diverso comincia a credere che se oggi cambi quello che fai domani allora sarà veramente diverso e se oggi migliori quello che fai domani sarà migliore comincia in piccolo e non smettere mai di migliorarti c'è gioia c'è felicità ci sono giorni pieni di vita la vita è spettacolare non arrenderti mai alla tristezza non rendete mai alla rabbia e lotta per la tua felicità lotta con tutto quello che c'è di magnifico lotta per le emozioni che ti fanno venire brividi solo a vederle lotta per quelle giornate che finiscono con un bel sorriso lotta per quelle serate con le compagnie in bei in bei amici lotta per la gioia per la famiglia lotta per qualcosa lotta per i tuoi sogni lotta per riempire la tua vita di attimi indimenticabili di successi di gioia e di amore non c'è tempo per essere tristi la vita è troppo breve non sprecarla nemmeno un attimo non ne vale la pena ne uscirai ne uscirai più forte di prima con più grinta e più consapevolezza non mollare mai rendi la tua vita un capolavoro